Mi chiamo Nicolo Torelli, vengo da Genova, ho 19 anni e ho preparato questo impasto con un indiretto di tipo biga da 44% di idratazione con la farina tipo zero e sono andato a finire l'impasto con una farina di tipo 1 integrale per arrivare al 60% di idratazione. Ho lasciato maturare l'impasto dalle 24 alle 30 ore, questa pizza preparata con panna, prosciutto cotto, patate, mozzarella. Devi parlare dell'impasto, che tipo di impasto hai fatto perché quando lo spiegavi non è che si sente tanto bene. L'impasto è un indiretto biga, 50% di impasto e 44% di idratazione, la biga e poi sono andato a finire con un indiretto che è arrivato al 60% di idratazione. Hai fatto la biga 44%, complimenti, è bene. La biga è stata fatta con una farina di tipo zero e a fine ho finito con un tipo di farina di tipo 1. Infatti lo assaggiare è buono, con l'impasto lo ritengo molto buono. Bravo! Nicolò, la scelta per un concorso di una pizza così semplice come ingredienti? Perché dove lavoravo l'ha inventata il pizzaiolo, almeno non so se l'hanno fatta da qualche altra parte. A me piaceva molto e ho deciso di portarla. Sicuramente non è uguale a quella che fa lui, però... Ok, che tipo di prosciutto hai usato? Prosciutto cotto, non affumicato, semplicissimo. Sì. Ok, va bene, grazie. Ti ringrazio. Sono contento di aver fatto questa esperienza, poteva andare sicuramente meglio, può sempre andare meglio e... cosa dire.